Cari ragazzi, se vi ricordate qualche settimana fa o forse qualche mese fa, ormai mi perdo un pochino dentro gli orizzonti del tempo, vi ho proposto una bella costata di bisonte con tutte le caratteristiche che il bisonte allevato in Italia da Massimiliano Gatti ha vale a dire scordatevi quell'essenza ferrosa che siete abituati a sentire sul bisonte e soprattutto entrate immergendovi in un'atmosfera che parla di allevamento con grande attenzione per gli animali che vengono praticamente lasciati quasi allo stato brado e soltanto il minimo intervento dell'uomo serve per riuscire a definire l'alimentazione in maniera computerizzata, in maniera particolarmente elettronica in maniera particolarmente attenta in modo tale che si riesca a così preservare anche la qualità della vita dell'animale e soprattutto vi buttate in un universo in cui la tenerezza, il fatto che sia una carne ipocalorica il fatto che sia una carne praticamente senza colesterolo insomma vi porta in una dimensione completamente diversa rispetto a quella a cui siete abituati quindi non pago di quella volta in cui mi feci dare una costata ho raddoppiato, quindi stasera ci spariamo una roba che soltanto a guardarla a me viene già fame, a parte che a me viene fame sempre però a prescindere oggi mi viene fame di più perché mi viene fame di più? perché a disposizione sul mio tagliere ho una bistecca disossata anzi due, sono due bistecche di reale cioè un taglio del collo quello che ovviamente precede la lombata molto interessante per ottenere delle bistecche che sono particolarmente profumate anche da crude anche da crude abbiamo un taglio con ovviamente un pochino di grasso lo vedete, vedete questa bella linea che trasversalmente occupa tutta la superficie di quella più grande e della bistecca più piccola abbiamo un'amarezzatura leggera con un po' di grasso appunto intramuscolare che si scioglierà sicuramente durante la cottura già la cottura carni pregiate suggerisce di fare 2-3 minuti per lato andando a impreziosire con sale, pepe e eventualmente lo smarino per spingere ulteriormente la carne io che però sono poco avvezzo a farmi dare dei consigli perché voglio cercare sempre di andare al di là della mia comfort zone voglio provare a farle in due maniere diverse quella grande, sì su quella grande accetteremo il consiglio di carni pregiate quindi di Massimiliano e di tutto il suo team utilizzeremo il Big Green Egg e guardate a che temperatura siderale è già il Big Green Egg sul quale ho montato il setup di cottura diretta vedete che non ho ancora moltissimo carbone ma mi basterà poco per fare la mia cottura che cosa facciamo? semplicemente 2-3 minuti per lato facciamo nello specifico un minuto, un minuto poi 30 secondi, 30 secondi con la tecnica del flip and brush senza però aggiungere l'olio perché al posto dell'olio che avremo messo all'inizio andremo a impreziosire la nostra carne con un rub nello specifico con il beef dry rub di Venecu che rientro a sale, zucchero integrale, paprika, pepe nero, rosmarino, coriandolo, cipolla, pepe verde, ginepro, cardamomo, pimento, senape, cumino, origano, chiodi di garofano, peperoncino, maggiorana e dragoncello tutto quello che si potrebbe desiderare sarà una cottura quindi hot and fast una cottura che non mi porterà via tanto tempo ed è una cottura che farò soltanto in un secondo momento perché? perché se è vero che adesso passo il mio olio non vale a impreziosire con una botta di sapore tipo paprika scusate tipo senape rimango un pochino indietro con l'olio poi metto la mia strisciata di rub come faccio la bistecca piccola? la bistecca piccola non sarà fatta sul big green egg ma sarà fatta sul Camado Joe Junior perché? perché voglio unire il bisonte di Massimiliano Gatti con questo questo ragazzi è una bottiglia di Buffalo Trace è un bourbon di cui parleremo approfonditamente più avanti che è fatto con una miscela costituita da più del 51% di mais questa caratteristica di tutti gli straight bourbon non sono sbaglio del Kentucky si uniscono passaggi in botti di rovere americano e ovviamente il resto lo fa parte del resto anzi lo fa l'acqua calcarea del Kentucky qui la percentuale di mais arriva all'80% vediamo se quel velluto che ha questo prodotto si sposa bene Buffalo bisonte con il mio bisonte con la mia bistecca di reale sono molto curioso perché che cosa andrò a fare? semplicemente dentro il Camado Joe Junior temperatura bassa proprio per fare quasi una reverse hearing facciamo setup ovviamente di cottura indiretta andiamo a far sciogliere le nostre infiltrazioni di grasso e andiamo a nebulizzare ogni mezz'ora con il Buffalo Trace non so quanto tempo servirà io me la porterei intorno ai 45 gradi 47 utilizzerò naturalmente il meter anche se è una bistecca piuttosto sottile per riuscire a capire quando sarà pronta una volta che sarà pronta passaggio veloce dentro il Big Green Egg che sarà ancora bello rovente e riusciremo a trovarci con i Grill Marks per ottenere la reazione di Maillard e riuscire ad andare a caramellizzare anche tutti gli zuccheri della mia carne sono molto tentato cominciamo a lavorarci su tra l'altro guardate bene il taglio da vicino guardate la fibra noi poi andremo a tagliare contro fibra però veramente mi stupisce sempre dei bisonti di carne pregiata il colore è un rosso particolarmente acceso e la differenza di quando vai a togliere dal sottovuoto questo genere di prodotto è che rilascia un bel profumo non quel tipico stantio da prodotto sottovuoto naturalmente è appunto una carne pregiata quindi speriamo con le nostre due cotture di non rovinare niente allora ecco nel mio nebulizzatore il fantastico Buffalo Trace e vedete che ho messo sopra il meter intanto che cosa ho fatto? ho acceso il Kamado Joe Junior per ora mettendo soltanto il deflettore in ceramica sul supporto sul quale poi andrà posizionata la mia griglia però lo lasciamo prendere un pochino a temperatura gli lasciamo prendere un pochino a temperatura saliremo circa intorno ai 100-120 a dir tanto adesso naturalmente metto i guanti così non mi inzozzo le mani mentre devo andare a rubare la bisteccazza grossa bisteccazza abbiamo messo un po' di olio extravergine d'oliva e adesso semplicemente inneschiamo una reazione chimica tramite il rub cioè la strofinatura con il rub praticamente un rub a rub iniziamo rub a rub eccoci qua da una parte abbiamo messo l'olio anche dall'altra semplicemente facciamo la stessa operazione per cui andiamo a versare una generosa dose di mix di spezie anzi vi ho raccontato prima tutti i vari ingredienti che compongono e adesso siamo pronti non andiamo subito in griglia semplicemente perché a parte che sento qui il cumino che spinge da morire non andiamo subito in griglia perché? perché devo anzitutto oliare la griglia del mio big green egg ma anche perché prima voglio portare avanti la cottura della mia bistecchina ho raggiunto i 100 gradi ecco la mia bistecchina col mio meter adesso chiudo naturalmente la temperatura sarà più bassa ma poi andrà tranquillamente a ripristinarsi quindi arriva a breve tra una ventina di minuti nebulizziamo con un primo giro di buffalo trace impostiamo anche il nostro meter manzo bistecca altro passiamo a 45 avviamo ed ecco fatto vedete che l'interno è già 17 l'ambiente naturalmente sta salendo adesso andiamo avanti navigo sempre a poco meno di 100 dopo più o meno 15 minuti la mia cane è diventata così e adesso nebulizzo e lascio andare nebulizzata e via mamma che aroma ok ragazzi siamo pronti più di 200 gradi direi che siamo intorno ai 210 e guardate come spingi e guardate come spingie il mio carbone da una piccola passata ancora alla mia griglia di acciaio inossidabile 3 3 2 1 e 0 e adesso andiamo a cuocere esattamente come ce l'avamo detto via prima facciamo un minuto e poi la giriamo dopo un minuto guardate che spettacolo naturalmente i grill marks sono inferiori rispetto all'utilizzo della ghisa proprio perché l'acciaio inox conduce meno calore lascia meno impronta più che altro continuiamo a far andare un minuto così poi facciamo 30 secondi 30 secondi senza aggiungere però l'olio e magari un pochino lo aggiungiamo vediamo un attimo pronti per un'altra girata continuiamo a far andare bene bene sto alternando cottura sul lato e intanto che va da questa parte pulizia della griglia in modo tale che non rimanga niente attaccato e che la carne riceva il massimo di calore ancora un po' di girate ci sono ma la crosticina ma la crosticina e il profumo che sale 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 non fa male allora praticamente 6 minuti più o meno quasi 7 in realtà li ho proprio contati e guardate come è diventata quella fatta hot and fast per intenderci una meraviglia sono proprio curioso di assaggiarla la faccio riposare pochissimo e poi la assaggio non so cosa ne pensiate voi ma a me mi piace adesso come i grandi classici del passato si assaggia inebriante burrosa pazzescamente burrosa incredibilmente burrosa anche se molto magra ed è una roba che ogni volta che mangio bisonte mi stupisce un velluto un'eleganza straordinaria adesso finalizziamo un'altra allora ragazzi questa dopo una mezz'oretta è come è venuta invece quella che ho continuato a nebulizzare con il buffalo trace cioè con il mio bourbon adesso ovviamente da una parte sotto dove anche se cotto in diretta eravamo arrivati più o meno a 120-130 gradi la carne si è cotta adesso noi la giriamo e facciamo un minimo di tentativo di ricerca di reazione di maillard anche da questa parte poi la giriamo ovviamente anche da questa soltanto una passatina veloce perché la carne dentro è cotta e poi ce l'assaggiamo ed eccola qui che meraviglia ha un profumo ragazzi che manco ve lo sto a dire tanto non passa dalla camera stupenda la taglio ragazzi uno spettacolo guardate anche dentro e adesso finalmente è arrivato il momento naturalmente sento la vaniglia la cannella che spingono il bisonte in maniera perfetta il buffalo trace insieme al che braccio blanco cioè al carbone ha dato in fase di cottura lenta una spinta aromatica che è incredibile e su questo bisonte è una manna veramente eccezionale allora ragazzi due modi di cottura completamente diversi per lo stesso pezzo valutate voi quello che vi piace di più io devo dire che trovo il bisonte veramente eccezionale e ripeto quello che vi ho detto nel video della costata almeno una volta nella vita dovreste secondo me provarlo qui sotto vi lascio tutti i riferimenti naturalmente per il bisonte andate a vedere cercate di capire se è qualcosa che può fare per voi e poi come sempre in chiusurissima qui per guardarvi no qui per guardarvi un altro video con grande agilità mentre qui invece se volete iscrivervi potete tramite la campanella restare in contatto con tutte le ultime novità come sempre il rub di Veneku ha convinto esattamente come il buffalo trace che ritroveremo come vi ho detto all'inizio del video a breve ragazzi un grande abbraccio altro episodio del mondo del bisonte veramente esagerato alla prossima ciao 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 ciao